Un pieno di libri giunge alla seconda tornata e dobbiamo dire con un grande successo tenuto dalla prima. Quali sono le peculiarità di questa iniziativa? Questa è un'iniziativa che innanzitutto noi riusciamo come sistema bibliotecario del Comune di Fano a realizzare grazie al riconoscimento per il secondo anno consecutivo di una serie di finanziamenti sul progetto da parte del Ministero. E questo già è un bellissimo risultato di cui possiamo comunque rendere conto la città. Dall'altro c'è un mondo della scuola che in questi anni ha investito molto sulla lettura, accompagnato anche ovviamente dal sistema bibliotecario. 15 nuove biblioteche scolastiche sicuramente hanno fatto la differenza e in questa seconda edizione riusciamo a superare i numeri già altissimi di adesione dell'anno precedente. Per questa edizione invernale abbiamo coinvolto 50 classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado della nostra città, quindi parliamo di circa 1.250 alunni con la distribuzione di 1.550 libri all'interno delle nostre scuole in una logica ovviamente di condivisione, di costruzione di percorsi di lettura che porteranno poi nelle prossime settimane le ragazze e ragazzi, le bambine e bambini a confrontarsi dentro le scuole e anche nella Mediateca Montanari con autori che in queste settimane hanno avuto la possibilità di conoscere e di apprezzare attraverso la lettura. È un'iniziativa questa che coinvolge anche le librerie della città? Degli attori assolutamente importanti nel tessuto culturale della nostra città che ormai da alcuni anni sono preziosi compagni di viaggio del nostro sistema bibliotecario e anche in questo caso sono veramente, è il caso di dirlo, protagonisti perché il progetto è costruito e realizzato insieme a loro e molte delle iniziative che sia nella precedente edizione che in questa sono realizzate proprio grazie al contributo, la presenza e anche alla professionalità oltre che alla passione delle librerie della nostra città. E a parte le librerie un importante ruolo didattico lo esercitano anche le biblioteche scolastiche che vengono incrementate proprio dai prestiti ma anche dalle donazioni che fa la Memo. Assolutamente sì, gli anni scorsi con altri finanziamenti che siamo riusciti ad ottenere su una serie di progetti legati proprio ai percorsi della didattica siamo riusciti ad accrescere in maniera significativa le dotazioni delle biblioteche scolastiche che hanno avuto la possibilità anche di crescere in numero e oggi sono una rete che in qualche modo integra il nostro sistema bibliotecario cittadino e lo fa con un impegno da parte di insegnanti e dirigenti che veramente in questi anni è stato grande e ha consentito di promuovere la lettura anche oltre i confini delle biblioteche di questa città. Valeria, come si articola un pieno di libri quest'anno? Ci sono novità rispetto agli anni scorsi? Allora, beh, la novità sostanziale è diciamo il numero di partecipanti. Cinque incontri che vanno ad intercettare gusti di tutte le fasce d'età dai 6 ai 12-13 anni e per cui appunto abbiamo anche differenti generi. Quali sono le date di questi incontri dove si svolgono? Allora, gli incontri si svolgeranno quelli pubblicizzati nel nostro cartellone tutti alla Mediateca Montanari. Sono tutti venerdì di febbraio, il 3, il 10, il 17 e il 24 febbraio per finire il 3 marzo, quindi il venerdì pomeriggio alle 15.30. Sono incontri aperti alle scuole ma aperti anche al pubblico. Invece il grosso degli incontri si svolgeranno il venerdì mattina e il sabato mattina perché i nostri ospiti rimarranno a Fano due giorni per poter incontrare quante più classi possibili e quindi insomma saranno veramente tante le classi che parteciperanno.